Il retroscena della vita pubblica e privata di Achille Lauro, politico, armatore, editore e proprietario del Napoli, raccontati da Corrado Ferlaino, che con lui ha condiviso gli anni della consacrazione e del declino, diventando a sua volta protagonista di una storia di calcio e di vita. Nel suo primo libro, intitolato Il comandante tradito, il presidente del Napoli degli Scudetti e di Maradona, debutta come scrittore e con il giornalista Tony Giavarone ripercorre la vita di Achille Lauro con la curiosità di chi vuole svelarne il retroscena. Il libro nasce da un debito morale che avevo nei suoi confronti, ha spiegato Ferlaino durante la presentazione del volume. Achille Lauro è stato un uomo che ha fatto tanto per Napoli e la sua esperienza politica e imprenditoriale non si può dimenticare. Alla presentazione ha partecipato tra gli altri il sindaco Luigi De Magistris, che nonostante le differenze con Lauro ha sottolineato come l'amore per la città accomuni persone di culture e sensibilità politiche diverse.